In una delle location più accattivanti di Genova, ritorna uno dei suoi locali storici, Sereno 1950. Sereno 1950 è cocktail bar, ristorante, bracceria e hamburgeria, pizzeria e insalateria, e ancora gelateria, pasticceria e caffetteria. Vieni a provare le mille specialità che abbiamo pensato per te, accompagnate dalla simpatia e cortesia del nostro personale. Sereno 1950 ti aspetta a Genova in via Felice Cavallotti 1 www.sereno1950.it Sereno 1950 Riaspettiamo!